Mi fa volare, ma tutto questo mi fa volare Sto volando, prego, non mi disturbare Si vuole! Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Allora, perché sto facendo questo video? Innanzitutto sto facendo questo video perché è giusto che lo faccia Uno, perché ho voglia Due, perché ho un attimo di tempo E tre, e non perché è il fattore meno importante Comunque avete di gran lunga superato i 100 mi piace Che avevo messo come ultima speranza nell'ultimo video che avevo caricato Come avete visto ho cambiato il nome del canale Come dicevo, era moltissimo tempo Perché così almeno anche solo a livello dei nomi Mi posso sentire più libero di portare quello che voglio E nonostante ciò siamo su Clash of Clans Cioè il primissimo gioco, il primissimo video che avevo portato sul canale Prima di iniziare con il video Ovviamente vi voglio chiedere di farmi vedere Che comunque è superato il fatto Che io voglia continuare a portare video di tanto in tanto Anche di cose diverse quando riesco Quindi vi chiedo di arrivare almeno a 50 mi piace Per un prossimo video Che comunque io già registrerò Perché oggi è un attimo di tempo Quindi già registrerò anche degli altri video su format diversi Che caricherò prossimamente se arriviamo a 50 mi piace in questo Detto ciò, come vedete siamo qua su Clash of Clans E siamo qui sul nuovo villaggio Il villaggio è stato scoperto Quello con la sala del costruttore Perché sono qui? Perché ho fatto video Non è il classico video del cazzo Oddio andiamo alla scoperta del nuovo villaggio Oh my god Scioppiamo a destra Scioppiamo a manca Che poi sciopperò lo stesso per una cosa Però dettagli Ma perché voglio farvi vedere questa disposizione Che ho trovato Questa disposizione del villaggio difensiva Perché mi sto trovando molto bene con questa Degli ultimi, credo, 11-12 attacchi che ho fatto Li ho vinti tutti quanti Perché gli avversari mi hanno fatto pochissimo danno Comunque ne hanno fatto meno di quello che ne ho fatto io Adesso che ho fatto 40 volte Mi comparirà Snoop Dogg qua in basso Con una carta in mano sicuramente Comunque Allora, 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 allora Cosa vi volevo far vedere? Essenzialmente adesso vado un attimo qui Modifica disposizione Per farvi vedere La disposizione solamente delle mura Queste sono le mura come le ho messe io Se volete copiare questo villaggio Testarlo È un villaggio per TH3 Cioè, sarà un tono oltre Comunque sarà il costruttore a livello 3 Con tutte quante le difese Quindi Questo è un villaggio che potete utilizzare Fin quando non maxerete tutto quanto E passerete di TH successivo Però queste aperture Traggono molto in inganno i nemici Fattore 1 Non attaccano praticamente mai da questa parte Anche perché ce lo spacca tutto E quindi si cagano un po' in mano Poi Ho preso dentro E poi comunque vedendo lo spazio qua Pensano che ci sia la Tesla Che poi in realtà c'è comunque E tante trappole a scatto Quindi spesso tendono ad attaccare Da questi lati qua inferiori O comunque da questa zona E adesso vi farò vedere un attacco Ovviamente Dovete anche essere bravi voi Ad attaccare Fare tanta percentuale Voi perché comunque più percentuale Fate in attacco E più è probabile Ovviamente Che vinciate Il duello Questo villaggio funziona Anche se non avete ancora Una di queste difese Nel senso Io comunque fino a stamattina Questo muro qua Ce l'avevo giù così Che chiudeva tutto Perché questo cannone Non l'avevo ancora fatto E funzionava benissimo Anzi funzionava anche meglio Perché ovviamente Come sapete Con questo matchmaking Più un villaggio diventa forte Più troverete Villaggi di forti Di conseguenza Si suppone anche gente forte E quindi facevano Anche di turno a meno percentuale Tutti gli attacchi Andavano tra il 22 E il 30% di danno Mi facevano Adesso così Me ne fanno tra 45 42 40 Eccetera eccetera E direi Nazzi Boh Qua possiamo anche shopparla Perché tanto Delle gemme su Crash of Clans Non me ne faccio Un bene amabile cazzo A meno la difesa Tutta quanta pronta E possiamo andare a fare un attacco Adesso ovviamente Che andrò a cercare un avversario Perderemo Perché si ovviamente Sto registrando Di conseguenza si va a perdere Infatti questo c'è anche un villaggio Abbastanza chiuso Questo è uno dei casi In cui I giganti Non servono a un cazzo Servono tantissime truppe Di conseguenza Agli arcieri Perché bisogna cercare Di fare più danno In percentuale Su queste tipologie di villaggio Allora Ovviamente Bisogna anche stare Parecchio attenti Ai cannoni Qua che hanno Una lunga gittata E quindi Bisogna posizionare Tanti arcieri in giro Per cercare di racimolare Più percentuale Possibile Di danno Come vedete Adesso dovremmo Essere arrivati Sto attaccando Veramente di merda Giusto perché Sto facendo l'attacco Siamo sul 44% Molto modesto Dobbiamo arrivare Almeno a fare una stella Per sicurezza Perché nel caso Loro ci prendessero Il municipio Però fanno meno percentuale Di noi In ogni caso L'hanno vinto ugualmente Di conseguenza Bisogna cercare C'è qualche struttura In giro Ovviamente Il cazzo Bisogna far fuori Queste due qua Quindi io direi Di fare Così E così Ok Siamo riusciti a fare Almeno una stella Vediamo se riesce A far Se riusciamo a far fuori Anche questo Speriamo di sì Speriamo di sì Ok ce l'abbiamo fatta Abbiamo fatto il 57% Era un villaggio Comunque abbastanza tosto Perché aveva le difese Un po' tutte quante intorno Quindi era un villaggio Fatto bene Vediamo se abbiamo vinto E ovviamente Abbiamo vinto Questa è la 13esima Difesa consecutiva Che vinco Lui addirittura Ha attaccato con 20 barbari È l'avversario Che mi ha attaccato Con più truppe Essenzialmente Questo qui vi faccio vedere Un po' quindi Come lavora in difesa Questo villaggio In modo che possiate Farvi un'idea Di come si difende Ovviamente lui è attaccato Sempre dalla zona Qua in basso Perché è quella Dove attaccano La maggior parte Degli avversari Questi qui salteranno In aria Sono saltati in aria Anche questi qua Come vedete Tutti quanti Sono stati sbalzati In giro Di conseguenza L'organico La forza collettiva La forza collettiva Le barbari Quando attaccano insieme Viene un po' A mancare Infatti come avete visto Delle 20 truppe Che ha utilizzato Ne sono già Rimaste pochissime Infatti sta arrivando Qui poi Le truppe Quando entrano da qua Vengono distratte Verso il municipio Perché è quello Che ha un quadratino Di slot in avanti Rispetto alla torre Dell'arciere Non vanno mai Sulla torre dell'arciere Che rimane ben protetta E niente Per questo video Posso dire tranquillamente Che è tutto Se questo villaggio Vi piace Se siete ancora Con la sala Costruttore A livello 3 Vi invito Vivamente Ad utilizzarlo Perché mi sto trovando Davvero benissimo Il massimo Che ho riuscito a farmi È stato il 60% Meglio L'avevo fatto 75% Quindi ho vinto ancora Questa è la tredicesimo Attacco consecutivo Che vinco Con questa disposizione Quindi vi invito Ancora a copiarla Lascio un attimo Qua ferma Comunque tutte Che potete vedere Dove sono le varie trappole Tutto quanto Ci vediamo In un prossimo video Lo spero Se voi vorrete Mi raccomando Vediamo 50 mi piace Così ne metterò altri E bella A tutti quanti